Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, oggi andremo a recensire questa borraccia termica come ho detto è stata qui la sua confezione dal design minimale e abbastanza compatta questa qui è la borraccia che troviamo all'interno e poi ci sono ancora altri accessori come questa spazzola qui più grande che troviamo all'interno oltre che ovviamente al manuale delle istruzioni che è questo e alla spazzola più piccola che è questa qui come vedete ha un manico interamente in plastica bianco con queste spazzole qui rigide e anche piuttosto lunghe per raggiungere ogni punto della borraccia termica perché devo dire che è un po' difficile da pulire soprattutto in questo punto qui interno in cui ho presente tutto il meccanismo per far uscire il liquido come ho detto questo qui la parte interna va a diminuire ma comunque la spazzola si riesce a pulire bene e poi questo qui è il meccanismo che si può aprire con un semplice click quindi schiacciando qui in questo modo siamo riusciti a chiuderla e di schiacciandola la possiamo aprire come vedete qui c'è una leggera fessuna in questo modo tiene aperta il tappo così può entrare l'acqua da questo punto qui come vedete qui è presente un'altra guarnizione questa è la rimossa e l'infilata oltre che quella del tappo che lo tiene sigillato quindi uno per la pulicità del liquido e qui per tenere il tappo ben chiuso e saldo sulla bottiglia basta infilarlo qui in questo modo e girando andiamo a stringere le due parti che tengono poi ben saldo e chiuso il tutto come vedete le dimensioni sono buone si riesce a tenere in una mano è più piccolo di una borraccia grande da quasi un litro ma comunque ci stanno 380 ml di liquido direi che sia una capacità comoda per trasportare diverse bevande come tè, caffè, latte, cappuccino ma non solo gli accessori che troviamo qui in confezione sono degli accessori in plastica molto semplice la spazzola è comoda, pulisce bene ma comunque è piuttosto economica e di bassa durata si riesce comunque a pulire anche senza questo accessorio che secondo me è comodo ma non indispensabile come vedete qui lo si può anche staccare in questo modo e li attaccare infilando questi due punti qui così in questo modo è anche lavabile questo accessorio qui è presente anche in altri prodotti di questa marca qui e anche della UMI che è un'altra marca di bottiglie termiche qui sul manuale delle istruzioni troviamo anche la lingua inglese che ci va a descrivere alcune caratteristiche della bottiglia come vedete questa qui è in lingua italiana quindi troviamo la descrizione sul materiale, le caratteristiche la cura dell'avvertenza quindi come va posta, lavata, pulita la bottiglia dietro ci sono ancora delle istruzioni per l'utilizzo la pulizia pulizia che come vi ho già accennato è difficile nella parte superiore del meccanismo perché qui rimane sempre qualcosa sì che è comodo poter utilizzare con un solo litro perché noi stiamo qui e abbiamo aperto il meccanismo si può bere, è comodo qui esce liquido tutto attorno quindi possiamo bere in qualunque punto ed è molto comodo qui non rimane dell'acqua quindi direi quasi niente mi ero preoccupato un po' che potesse finire qui più che altro rimane dentro, attorno e questo qui magari è un po' comodo se vuole srollato se per sbaglio vi cade comunque ok che è più veloce da chiudere quindi se cade è chiusa quindi non esce acqua però poi le gocce qui rimangono e se prendete delle bevande magari come un esempio il latte che puzza o utilizzate sempre quello oppure per pulirla vi rimane comunque un po' di gusto del caffè di qualcosa di forte quindi rimane io magari vi consiglio di utilizzare la solita bevanda quasi sempre perché se no c'è il rischio che comunque puzzi di una bevanda piuttosto che di un'altra per l'utilizzo quotidiano devo dire che è comoda la si può utilizzare sia per all'ufficio che per casa solo proprio a slivania è anche bella sono presenti i tre colorazioni questo verde qui che ho preso io e devo dire comunque è bello e inoltre il bianco e il nero quindi tre colorazioni comunque abbastanza varie per i propri gusti che uno può scegliere sempre sulla descrizione del sito prezzo di 16,99 euro è un po' alto però se consideriamo i design i materiali riesce anche a mantenere il freddo per 9 ore e il caldo per 5 ore circa ovviamente sono delle misurazioni perfette nel migliorio delle condizioni o della temperatura comunque alta che però comunque va bene riesce a mantenere molto bene le temperature in modo abbastanza costante molto di più freddo ovviamente come tutte le altre borracce termiche questa marca qui di queste borracce termiche ce ne sono diversi diversi modelli qui su Amazon tutti hanno dei prezzi comunque piuttosto competitivi i materiali sono buoni è interamente in acciaio inox inoltre alla verniciatura devo dire che non si rovina pensavo che andasse via magari lavandolo o comunque rattandolo un pochettino ovviamente non utilizzate la parte rubida della sfogna perché magari la rovina però ho visto che questa parte qui non tende a rovinarsi e questo è proprio ottimo mi stavo quasi per dimenticare di dirvi che il fondo è completamente in gomma morbida completamente sia la parte qui rialzata che quella qui internamente quindi quando voi la appoggiate è salda tiene l'euro si appoggia al primo colpo e lei sa non cade non si muove non scivola si tiene molto ferma e salda sul tavolo questo è il comodo non è da tutte le bottiglie io ho già provato altre che sono interamente in metallo anche la parte in fondo è in metallo e sono sicuramente più comode queste che fanno meno rumore meno attelito rovinano anche molto di meno il tavolo perché sono in plastica magari si catturano un pochettino di storco però comunque si possono lavare tranquillamente quindi non ci sono problemi quindi considerazioni finali questo è un buon prodotto comodo anche preparare delle bevande con ad esempio il ghiaccio perché all'interno la bocca è molto molto grande l'apertura quindi riuscite a metterci quasi di tutto potete prepararvi magari dei cocktail o anche il cappuccino il tè però portate a lavoro durante la giornata comunque mantiene bene la sua temperatura da 380 ml l'unico difetto oltre alla pulizia potremmo dire che è l'uscita del liquido da qui perché comunque esce poco velocemente e quindi questo può essere un po' scomodo magari quando bevete se una bevanda molto calda molto fredda che la bevete magari quando siete a lavoro nella vostra stiglionia può essere comodo ma anche somodo perché comunque esce poco liquido vedo che ne esce di meno rispetto ad una normale borraccia sarà per il meccanismo non lo so comunque ne esce di meno questo non è molto comodo per maggiori informazioni dubbi o solito contattarmi potete scrivere quello da qui nei commenti io spero di esservi statutile ciao a tutti